Sindaco tedesco, Enel un po' in tutte le salse, prima il Consiglio Comunale aperto, poi quello con le mozioni presentate direttamente dai vari consiglieri comunali. Qual è il bilancio di questi due giorni che ha riguardato il futuro della centrale di Torre Valdarica Nord e quindi di conseguenza un po' il futuro della nostra città? Il bilancio non può essere che positivo, perché quando si discute, tra l'altro in due giorni, e tra l'altro in un giorno si è discusso con la città, perché è un Consiglio Comunale aperto, tra l'altro richiesto dalla stessa maggioranza, quindi si è invertito un po' la situazione, la maggioranza che si è messa a disposizione ha messo a disposizione della città la possibilità di interloquire, di parlare su questi argomenti. Il Consiglio Comunale che partiva con una mozione e con una richiesta legata alla crisi occupazionale che è derivata purtroppo dalle problematiche che la centrale di Torre Valdarica Nord ha avuto, in particolare per quanto riguarda le manutenzioni, è una problematica che ha investito soprattutto il settore metallo-meccanico e che chiaramente si è estesa poi nel coinvolgimento dell'Enel anche a quelle che sono le prospettive, tant'è che sono venuti, e ringrazio ovviamente tutte le persone che sono state presenti ieri e quindi anche i rappresentanti di Enel che sono venuti, come dicevo, comunque a rappresentare un po' quelle che sono le intenzioni dell'ente per quanto riguarda le prospettive future. Per quanto riguarda il documento, ovviamente adesso si cerca un po' la sintesi tra le varie mozioni presentate dai consiglieri, per cui ci sarà la Capigruppo il 10 ottobre, poi che tipo di documento ci aspettiamo? Ma è inevitabile che essendoci una maggioranza e un'opposizione che è articolata, c'è il gruppo 5 Stelle, c'è il gruppo del centro-sinistra e quindi è del tutto evidente che ogni anima politica amministrativa ha una sua mozione. L'opportunità è stata quella per tutti di ragionare insieme, di provare ad affrontare questa tematica in maniera comune, in maniera concorde e con l'occasione della conferenza dei Capigruppo redigere un ordine del giorno che in qualche modo vada a raggruppare tutte quelle che sono le intenzioni delle mozioni così come presentate. La posizione dell'amministrazione comunale anche dopo le parole di Enel al Consiglio Comunale Aperto che è intervenuto? La posizione è quella rappresentata nel corso della campagna elettorale, forte attenzione per quanto riguarda i rinnovabili, insistiamo su tutto questo aspetto, invitiamo magari un po' tutti a ragionare sull'opportunità comunque di rapportarsi con Enel, visto che è considerato che in questi ultimi anni questo rapporto è un po' scemato, mentre in realtà Enel che continuerà a rimanere per un certo periodo in vista della dismissione della nostra città con una centrale che funziona come conosciamo, è un ente che comunque la città deve, è indubbio che una risposta deve esserci e soprattutto Enel deve contribuire allo sviluppo della nostra città in termini occupazionali, questo è importante, in termini ambientali perché questo assolutamente non va trascurato ed ecco perché insomma anche nella campagna elettorale e anche successivamente abbiamo insistito in maniera sostenuta per quanto riguarda il discorso delle rinnovabili. La trasformazione al gas piace? La trasformazione al gas è una prospettiva che ci è stata raccontata, non hanno specificato più di tanto, quindi è una prospettiva che comunque dovrà essere posta all'attenzione non solo poi del Consiglio Comunale ma anche di chi governa la nazione e quindi questa prospettiva sarà oggetto anche della conferenza di capigruppo e lì ci sarà un ordine del giorno che evidentemente dovrà andare a rappresentare quelle che sono le intenzioni del Consiglio Comunale. Noi interessa soprattutto questo discorso che comunque la città sotto profilo ambientale abbia la massima tutela e ripeto abbiamo insistito anche ieri nel ribadire, tra l'altro anche Enel ha parlato di rinnovabili, di partire questo primo step proprio da questo aspetto. È importante che Civitavecchia 70 anni di presenza di Enel e cominci a ragionare, non l'abbiamo detto in campagna elettorale, come città pilota, città che sia un po' di esempio sotto questo aspetto non solo a livello locale ma a livello regionale ma anche nazionale per quanto riguarda una prospettiva, quella delle rinnovabili che coinvolge Enel anche per quelle che sono le società, Enel X, Green Power e quindi ci aspettiamo che ci sia una risposta sotto questo aspetto.